L'associazione Umbria-Left torna a richiedere con passione, preoccupazione, la richiesta impellente a chi può, alle forze e alle istituzioni regionali dell'Umbria, al governo italiano, all'Europa che si impegni fortemente per un cessate il fuoco, sia sul fronte ucraino, ma soprattutto oggi sulla Palestina. Siamo di fronte a qualcosa che viene paragonato a un genocidio. Oggi siamo circa a 10.000 vittime, non si sa quanti sono i feriti, quanti ancora sono quelli e quelle sotto le macerie. Oltre il 60% delle vittime sono donne e ragazzi sotto i 18 anni. Spesso sono vittime di una violenza cieca, vittime civili che pagano gli errori politici e militari di Hamas, ma sono anche la conseguenza drammatica dell'occupazione da parte di Israele e della Palestina. Oggi la necessità e l'urgenza è cessato il fuoco. In questi giorni l'ultimo ospedale che forniva cure ai malati oncologici a casa è stato costretto a chiudere, a cessare le proprie attività e quindi a fornire le cure ai malati oncologici a casa. Questo è il livello in cui siamo. Manca l'acqua, manca l'energia elettrica, è circa un mese che la striscia di Gaza è bombardata da terra e dal mare. È iniziata l'occupazione della striscia da parte dell'esercito d'occupazione israeliana. Chiediamo il cessate il fuoco. siamo di fronte a un'azione inumana e i responsabili, che non è solo Israele, ma sono anche gli Stati Uniti e l'Europa, è ora che battano un colpo, è ora che dicono che questa carneficina debba finire. È un'azione inumana, come inumana è stata l'azione di Hamas il 7 ottobre, ma oggi occorre finire questa carneficina, i bombardamenti su Gaza. Lo chiede l'Associazione Umbria Left, lo chiede a coloro che possono intervenire per fermare questo massacro, che procurerà solo odio, solo ulteriore odio. La vicenda finirà quando finalmente la comunità internazionale e Israele riconosceranno il diritto ai palestinesi ad avere un proprio Stato e si inizierà a costituire lo Stato della Palestina. Stato della Palestina che innanzitutto dovrebbe essere riconosciuto anche dal nostro Paese.